Quando Martin vedete, solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza la metà, solo. Ma c'è un perché, aveva una casetta piccolina in Canada, con vaschi e pesciolini e tanti fiori di là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vaschi e pesciolini e tanti fiori di là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Con vaschi e pesciolini e tanti fiori di là, dicevano che bella la casetta in Canada, e tante tante case lui rifece, ma però, quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vaschi e pesciolini e tanti fiori di là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Grazie. Grazie.